bisognerà aggiornare libri di scuola trattati di astronomia avevamo imparato che i pianeti sono 9 mercurio venere terra marte giove saturno urano nettuno plutone e invece adesso tutto cambia si scende a 8 il povero plutone esce dalla serie a e viene cacciato in serie b tutto ghiaccio lontanissimo scoperto nel 1930 plutone non aveva mai convinto una parte di astronomi troppo piccolo più piccolo della nostra luna e poi a un'orbita strana che passa attraverso quella di nettuno a praga al congresso dell'unione astronomica internazionale scienziati di tutto il mondo hanno litigato per giorni le continue scoperte di nuovi corpi celesti imponevano di definire una volta per tutte chi avesse diritto di definirsi pianeta e chi no alla fine hanno vinto i più severi ora un pianeta è solo un corpo celeste in orbita intorno al sole è quasi tondo e qui ci siamo con una massa tale da creare una sua gravità e qui ci siamo ma con un'orbita meno complessa di quella di plutone che diventa così un pianeta nano lui intanto non curante continua la sua corsa intorno al sole per fare un solo giro ci mette 247 anni a quasi 6 miliardi di chilometri da noi